No, dai! Come faccio? No, non è possibile! No, dai! Come faccio! Ciao! Oggi mi trovo nei pressi del lago di Viverone, un posto tra il Canavese e il Biellese, in Piemonte. Ci siamo incontrati con i cugini di Milano. Questo è il babà che mio cugino Angelo ha portato da Sorrento. No, i picchi di zio Gianni! No, i picchi di Pablo Scobar della Puglia! C'erano i picchi di zio Gianni! Vi auguriamo altri cento anni insieme. Non è una minaccia, ma un augurio! Buon anniversario Tina, Fabri, Cecilino! È una minaccia invece! Non è che non lo è, è una minaccia! Allora, la cosa più seria che possiamo fare in questa terra è amare. Il resto non conta. Buon anniversario Tina, Fabri, Cecilio e Nino! Andiamo! Attenzione, attenzione! Oggi è una bella festa! Due famiglie tutte assieme! Questo brindisi! In onore delle tue mamme! Tant'agulio alle mamme! E non ne abbiamo ancora bevuto, eh! Gira la camera! Gira la camera! Devi scegliere una camera! Tirala fuori, quella che vuoi! Ok, fai ora vedere la telecamera! Devi fare una cosa particolare! Devi rendere quella carta unica alle tue le altre! Dagli un bacio! Petti là fuori qua! Attenzione! Ora la tua carta, che sta in mezzo al mazzo, inizia a salire! Inventa la decima posizione! Inizia a salire, inizia a salire, in quanto diventa la prima del mazzo! E questa è la tua carta? No! Metti la mano così! Due di picche non è la tua carta! Copri la mano! Sai perché non l'ha funzionato? Perché tu la tua carta l'hai baciata! Quindi per ritrovarla, mi darò un bacio a mezzo! Aaaaaaah! No! Mi sono fatta! Ok, fai attenzione! Alza la mano! No, sono qua! No, più di dolce o... Dolce? Guarda la carta! No, dai! No, dai! No! Non hai fatto! No, non è possibile! Quante carte sono? Sono quattro carte! Ah, sentiamo! Sono quattro carte, ok? Quanti colori sono? C'è due! Due rosa! Allora, questa è una carta di colore... Di che colore è questa carta? Nella! Di che colore è questa carta? E la mettiamo qua, ma la metto sotto! Così che queste carte sono di colore nero e di molto dolce! No! Ma è troppo forte! Ma come fai? No! 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 No!